Assessore Marcheggiani, oggi presentate un importante progetto di educazione ambientale rivolto ai ragazzi delle scuole di Pescara, un progetto importante perché riguarda una particolare categoria di rifiuti. I rifiuti RAE, sì, è un progetto nazionale, partecipano 50 città in Italia, tra cui anche Pescara. Il progetto inizia a livello nazionale il 15 del mese di febbraio, durerà tre settimane e coinvolge le scuole della città che hanno voluto aderire per ben tre settimane. È un progetto di educazione ambientale e nello stesso tempo di grande informazione ed è rivolto soprattutto ai bambini della quarta e quinta elementare e delle scuole medie, proprio perché loro sono i più grandi consumatori di questi prodotti elettrici ed elettronici che sono i RAE ed è c'è un grande problema soprattutto nello smaltimento di questi rifiuti e purtroppo Pescara non è messa bene, è messa con un bassissimo rapporto di raccolta differenziata come nell'Italia meridionale e stanno meglio le regioni del centro e le regioni del nord.